Wuuuuhuuuuuuu Ragazzi manca davvero pochissimo E quando vi dico manca poco Manca davvero pochissimo Manca un solo minuto all'uscita Di Pam da spiaggia E ragazzi vi dico quello che faremo oggi Infatti oggi Noi dovremo riuscire a guadagnarci Questa skin Come? Beh dimostrando a Brewstars Che noi con Pam ci sappiamo Fare Attenzione mancano sono fazla 20 secondi Iscriviti al canale Prima che Pam esca nel negozio Anzi 5 secondi 5, 4, 3 2, 1 Nooo mio dio mio dio 7, 6 Tutto un cotto alla rovescia è diventato questo canale Non è possibile Dai eccola qua Ragazzi avete visto? Ragazzi siete sinceri l'avete visto anche voi E' uscita quando mancavano Due secondi Non subito Non si fa Brawl Stars Non si fa i conti alla rovescia Si rispettano Guardate la Pam da spiaggia C'è anche il tatuaggio del sole Sulla spalla Andiamo a prendere Pam Selezioniamola signori e signori E dobbiamo per riuscire a sbloccare La nuovissima skin di Pam Ossia Pam da spiaggia Riuscire a vincere in almeno tre Modalità differenti tra quelle Che ci sono oggi Quindi se anche tu vuoi oggi vincere In tutte le modalità di Brawl Stars Lascia un bel like Adesso Tipo adesso devi riuscire a lasciarlo Con la nocca del meglio Così proprio Allora Oggi abbiamo Arraffagemme Sopravvivenza Foot Brawl e Ricercati Ragazzi Pam Tipo in Ricercati Non è che sia tutta questa cosa Ma se vogliamo sbloccare la nuova skin Dobbiamo vincere anche lì Ma che senso ha che mentre parlo Mi esce la pubblicità Della nuova skin appena uscita Ma ho anche detto Come devo fare per sbloccarla Vabbè Iniziamo easy con Arraffagemme Perché è appunto ragazzi Il luogo più semplice Per sbloccare Pam Che poi in realtà Molti di voi già sanno Che non scorre Buon sangue Tra me e Pam Non perché non mi piace Il gameplay di Pam Bensì perché mi porta sempre Una sfiga Allucinante Ragazzi Tremenda Cioè ogni volta che faccio Il box opening Che mi esce Pam Nelle boxettine Davvero ogni volta È un trauma Perché significa Che non mi esce Assolutissimamente nulla Vado qui Quel gelindo nemico Ci è crepato malissimo Vado qui No era il nostro gelindo Ma che combina Che combina ragazzi Ok quello ci è morto Purtroppo sono morto anche io Il nostro mortis Non riesce a far fuori Quel gelindo Ma va bene così ragazzi Va benissimo così Io vado qui A buttare la mia cura Dai mia nuovissima cura Non salto appositamente ragazzi Perché non ci serve In questo caso Ok ok Dai ma cosa 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 butti Cosa butti La tua super lì Dai dai Abbiamo noi sei gemme ragazzi Vado qui a nascondermi Da questo lato Purtroppo Non posso essere utilissimo Nei confronti dei miei avversari Vado qui con Un'altra torretta Ottimo Aspetto Qui Faccio fuori Questa torretta Ragazzi Non possiamo perdere Neanche una partita Dobbiamo essere Dobbiamo essere Iper 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 Attenti Vado qui Perché così Mi riprendo altra vita Ragazzi Ho fatto giusto Giusto in tempo Perché hanno Poi subito dopo Buttato giù tutto Vado qui Mi riprendo di nuovo La vita Attenzione Non se l'aspettava Ragazzi Ho fatto una mossa Buonissima Che ci ha portati Alla vittoria E infatti Siamo anche Il migliore Seconda modalità Foot brawl Ragazzi Dobbiamo Vincere Per forza Ragazzi E' Obbligatorio Cioè o vinciamo O vinciamo Non possiamo scegliere Se vogliamo sbloccare La nuova skin Se vogliamo che Brawl Stars Ci dia La nuova skin Questo è l'unico Metodo Ragazzi L'unico metodo L'unico metodo Vado di lì No No Ho missato L'ho missato Malissimo Come ho fatto A missare malissimo Il gol Ma c'è comunque Il signor Umut Umut Grande Uno di noi Ti stimo Umut Umut Ti stimo Mamma mia Umut Ti adoro Dai 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 La pam nemica Non è forte Come noi Cioè ragazzi Non a caso Brawl Stars Ci ha messo Contro un'altra pam Perché noi Noi dobbiamo essere Più forti Rispetto agli avversari Ovviamente Guardate La doppia torretta Addirittura Cioè ma Ma che schifo è La doppia torretta Dai È infima Come tecnica La doppia torretta Proprio a dire Che volete essere Iper cattivi Non funziona mica Così Alla riscossa Prendo io la palla Prendo io la palla Attenzione 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 Tiro No L'altra pam Ha preso la palla Ma come cacchio ha fatto Ma come ha fatto Come ti permetti Distruzione totale Distruzione totale Ma no 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 Mannaggia lo tuo aim Mannaggia lo tuo aim Sì 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 Ti piacerebbe Sì bravo Distruggi tutto Distruggi tutto Dai Dai Zio Dai Zio No Perché mi ha preso la palla A mettere a tiravo Dovevo fare io gol Va bene Va bene Va bene Va bene Signori Terza Modalità Questo è i ricercati Non possiamo perdere Non possiamo perdere Se vogliamo Sbloccare pam Dobbiamo dimostrare Quanto siamo forti Ragazzi E' sempre quella La questione Questa è pam Da spiaggia Ragazzi Quindi dobbiamo Proprio essere Rilassati E tranquilli Anche perché qui Se poco 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 Ci viene Da non essere tranquilli E alla fine A te ti lasero A te ti lasero No Devo stare attentissimo E adesso ci vado Banzai No 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 Ok Stavo scherzando Stavo Stavo Decisamente scherzando Allora Questa la butto qui Vai Ti curo zio Ti curo zio E gli faccio un po' Terra bruciata Non è vero Mi sarò Allora A bruciare la vita Ecco ma Ma sei una genia Sei una genia Mi è venuta a regalare I punti ragazzi Non ci credo Riprendiamoci un po' Di vita Se fossi pocio Potrei curare I miei compagni No si è fatto Ma vabbè Vabbè ragazzi Ci sono fatti recuperare Come dei polli Come dei polli Io 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 Ragazzi Non ci credo Non ci sto credendo Dobbiamo Ma davvero Stiamo perdendo Contro questi tipi E dai Ecco sì Bravo Bravo Se no Come hai fatto A farmi fuori Ragazzi Ma 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 Non ha senso Non ha senso Dovevo laserarlo Tipo Dai E vado lì Aia Aia Ok Vado lì Non ti preoccupare Alto mi recupero la vita Mi vado anche qui Con il mio gadget Vabbè ragazzi Ma quello non è una super Quello ha un carro armato Al posto della super Però ho detto che Pam fa schifo In questa modalità Ok Non è vero Boom Boom Vado lì Vado lì Vado lì Bam Un solo bulloncino L'ha presa Ma è impossibile Dobbiamo recuperare ragazzi Dobbiamo un attimo Rischiarcela Perché se no Chi non risica Non rosica Sì Abbiamo pure il popocio Che tentava Di darmi Di farmi recuperare vita Non ha capito che Con la super E dai E dai Io la faccio La kill Però Oppure voi dovete Un attimo Impegnarvi No ragazzi Se no Se prendiamo questa Abbiamo un'ultima possibilità Per vincere Non voglio Non voglio perdere Non voglio perdere Niente 35 e 29 C'è una sconfitta Ma Ma ragazzi Abbiamo ancora La quarta modalità Ossia Sopravvivenza In singolo Ragazzi Proviamoci Proviamoci Dobbiamo piazzarci Ovviamente sul podio Se vogliamo Sbloccare La nuovissima skin No ragazzi Io ci credo Io ci credo Ragazzi Dobbiamo per forza Sbloccarla Guardate Ok Aggressivi Aggressivi ma non troppo Perché noi comunque Siamo delle persone buone Che curano gli altri Ma in questo caso Gli faremo invece Malissimo Malissimo Maxine Potresti essere mia figlia Per quanto mi riguarda Maxine E invece Invece ci devi crepare male Ci devi crepare male Eh sì Quello è il primo Che mi chiede Mi chiede assistenza Mi chiede collaborazione E invece Io quello che gli do Sono i bulloni In pieno volto Raga I bulloni In pieno volto Sì 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 Vai lì Vai lì Che nel frattempo Mi ricarico la mia super No 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 Guarda che da vicino Da vicino Ti dovrei laserare Da vicino Ti dovrei laserare Infatti così è stato ragazzi Recupero a questo punto La vita Attenzione 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 ragazzi Perfetto Perfetto In realtà Potevo mettere l'altra super Non l'ho messa Perché sono io scemo Ragazzi Purtroppo Purtroppo sono scemo Vado lì Quanto è lenta Pam Quanto è lenta Pam Lì c'è qualcuno Che sta per creparci Infatti E infatti Continua la morte Continua la morte Dai Maxine Maxine Non lo fare Non lo fare Ecco Ok L'ho un attimo ripresa di nuovo L'ho ripresa di nuovo Ragazzi Dai E dai Maxine No Fai la brava Ma che 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 Sì L'ho presa ragazzi Siamo sul podio Siamo Siamo al secondo posto E ha rotto Un attimo C'è morto da vent'anni Quel buo Continua Continua a scocciare Mannaggia a lui Ne manca solamente un altro Quella Maxine Abbiamo fatta fuori Abbiamo dimostrato Quanto siamo forti Mamma mia Mamma mia Dov'è 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 L'altro player Secondo me Tipo qui Da queste parti Qui Eccolo Ah Vai Vado anche con il gadget E si vince Questa partita Ragazzi Dai Così Possiamo sbloccare La nuovissima skin Di Pam Ossia Pam da spiaggia Ale siamo pure arrivati Il grado 19 C'è proprio a dire Che tutto quanto È unito In quest'ultima partita Sblocchiamo quindi La nuovissima skin In 3 2 1 Andiamo Grandissima Pam Ve l'ho detto Ve l'ho detto Ve l'ho detto Ve l'ho detto Dimostrate sempre Quanto valete Che la vita Vi ricompenserà Come si deve Vediamo assieme Pam da spiaggia Finalmente la signorina Pam C'ha Non un semplice Rimodel Ma c'ha proprio Una skin Tutta per sé Quindi selezioniamolo Ovviamente ragazzi Entriamo Nell'unica modalità Che prima abbiamo perso Per dimostrare Brawl Stars Che con la nuova skin Riusciamo comunque A vincere anche qui ragazzi Ecco abbiamo anche La signorina Bea Che si fa Gli affaracci suoi Che decide di non giocare Io ci sono già morto No non sono morto raga Non sono morto In maniera Non si sa come Però questo ci muore Va bene Va bene Va bene Va bene Riprendiamoci la vita Riprendiamoci la vita Ragazzi Siamo tutti quanti qua belli Uniti e compatti Uniti e compatti Ottimo Ottimo Mamma mia Mamma mia Che big danni Che big danni No 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 Ti proteggo io Ti proteggo io Bea Ti proteggo io Bea Non è vero 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 Non ti posso curare per sempre Io sto qui Dove vai Dove vai Dove vai Aiutatemi Aiutatemi Sì Sì zia Sì zia Questo è il lavoro di squadra Io sono un supporter Sono un supporter Così così Vi supporto Vi supporto Beccandomi i danni Al posto vostro Sinceramente Ecco appena qualcuno Appena qualcuno Si fa uccidere Ragazzi Eh sì 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 Volevi grabbarmi eh Volevi grabbarmi Eh volevi grabbarmi Ma qui c'è un'altra kill E lì c'è un È il primo Che non si riesce ad avvicinare Perché ragazzi Questa è la strategia Utile da utilizzare Non posso avvicinarmi troppo Neanche troppo poco Allora Ok No 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 Gadget instant Raga perché non è che possiamo creparci Abbiamo sei stelline E sei stelline a loro Sarebbero troppe da dare Attenzione Attenzione Manca pochissimo Sì Sì ragazzi Kill fatta Guardatele Guardatele queste sette stelline In the face Oh yes ragazzi Sulla tessolina Ci sono ben sette stelline Che sarebbe anche il massimo ragazzi Il massimo ottenibile Con la nostra piccola Pam Mamma mia ragazzi Mamma mia Si stanno Si stanno Eh no 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 Questa Questa kill Non ci voleva Questa da parte loro Non ci voleva Questo è il primo Questo è il primo Questo è il primo Ci crepa Ce ne butto anche un'altra DD Super Ce l'avevo già caricata E conservata da prima Altra kill fatta da noi E dimostro a Brawl Stars Che noi Riusciamo a vincere Anche in questa modalità Ragazzi Allora Grazie a tutti